we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi ci sono delle novità davvero interessantissime per quello che riguarda il futuro di fortnite ma anche il presente perché ragazzi è uscita la news della nuova emote in regalo per l'evento che sta per arrivare nel party royal vedremo anche però un primo diciamo spezzone di gameplay dei veicoli e parleremo anche del nuovo livello di abbassamento dell'acqua che ci sarà prestissimo prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è il nuovo evento we the people se andiamo nella pagina ufficiale di fortnite nelle news leggeremo questo guarda we the people x more than a vote in fortnite mercoledì 29 luglio partecipa alla proiezione speciale di we the people x more than a vote nel party reale di fortnite che cos'è we the people ups united presenta we the people x more than a vote un ciclo di conversazioni che raggruppa una serie di atleti e personaggi del mondo dello spettacolo per ispirare ed esortare i giovani a far sentire la propria voce contro il fenomeno dell'esclusione dal voto una crisi recente che sta colpendo soprattutto le comunità afro americane vi ricordo che già abbiamo avuto modo di vedere nel party royal degli dei personaggi di spicco di questa comunità parlare appunto a tutti voi giocatori e questo ci fa capire quanto fortnite possa essere utilizzato oltre che per divertimento anche per mandare un messaggio molto importante ai più giovani e alle nuove generazioni questa puntata di we the people è presentata da cari champion con la partecipazione di jason hayward un atleta bambi un rapper attivista jalan ruse atleta e presentatore sportivo ivan orgeorgie attrice e comica e russ un rapper l'evento verrà trasmesso in simultanea su fortnite e house party a partire dal 29 luglio all'una ora italiana dopo aver debuttato nel party reale we the people verrà ritrasmesso più volte ogni due ore per 22 ore nel corso della giornata di mercoledì 29 luglio ora ragazzi c'è da dire una cosa questa è un'iniziativa lodevole meravigliosa io vi invito ad andare a vederla se noi riusciamo magari ci andremo nel party royal durante la live ma tutti i partecipanti ragazzi otterranno un emote in regalo emote verve in regalo tutti i giocatori che parteciperanno alla proiezione di we the people il 29 luglio riceveranno in regalo le emote verve questa emote è stata creata a partire dalla danza inviata da michael mege il vincitore delle emote royal contest michael e suo fratello jamie hanno creato insieme la coreografia di questa danza ricca di energia la andiamo a vedere ragazzi non metto l'audio ma ve la faccio vedere ed è una danza davvero molto molto divertente che ci verrà regalata non appena entreremo nel party royal e andremo a partecipare all'evento we the people la danza il balletto è davvero molto molto divertente molto simpatico e comunque ragazzi vi prego non perdete di vista l'idea di epic games di passare un bel messaggio non pensiamo solo al regalo andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è un altro grande argomento ed è proprio questo post che si trova su twitter qui c'è un preview delle macchine che arriveranno in game allora prima di farvi vedere lo spezzone voglio dirvi che è un concept però è utilizzato è stato fatto utilizzando tutti i dati presenti fino ad adesso nei codici sorgenti di fortnite vi faccio intanto vedere di che cosa si parla la fisica del movimento della macchina è molto simile ovviamente non è perfetta perché non può essere fatta perfetta servono dei professionisti ma più o meno questo dovrebbe essere quello che si vedrà in game non appena arriveranno i veicoli io vi ricordo che purtroppo sono stati posticipati due volte e molto probabilmente li vedremo nella patch 13.40 ovviamente ci auguriamo che non venga posticipata alla season dato che hanno annunciato in un post ufficiale di twitter che ci vorrà ancora qualche settimana prima di vedere ufficialmente i veicoli in game quindi ragazzi davvero molto molto in attesa questa nuova modalità che arriverà insomma la possibilità di guidare i veicoli e vi ricordo che verrà corredata da una ltm tutto particolare ne abbiamo parlato nel video di ieri incrociamo le dita e staremo a vedere e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi ricordate che ieri e anche un paio di settimane fa vi avevo parlato della skin dell'agent jonesy quello insomma che abbiamo visto nell'evento del doomsday al termine della season 2 di questo capitolo 2 beh ragazzi ieri pomeriggio 10 minuti fa siamo ovviamente a ieri pomeriggio hanno ri decriptato il pack agent jonesy quindi tornano le speranze per l'arrivo nello shop di una di quelle skin che secondo me vale la pena avere è veramente pulita elegante me la immagino già con in mano le armi quindi tanta tanta roba potrebbe davvero avere ragione l'oxiuderone quindi tornerà o meglio arriverà nello shop andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle novità anche per quanto riguarda la navicella spaziale quella che tuttora è sommersa proprio dietro scogliere scoscese ma della quale si vede il motore che si è incastrato nella parete di roccia alla sinistra di scogliere ci sono appunto delle news delle informazioni aggiuntive per quelle che saranno delle challenge si chiamano challenge della navicella antica the ancient the asian spaceship la prima trova the asian ship quindi trova la navicella la seconda colleziona le parti mancanti e finalmente sappiamo quante dobbiamo collezionarne installa le parti mancanti e sono nove sembrerebbe in totale sparse per la mappa ovviamente preparerò il video per scoprirle tutte install head shield installa lo scudo install thruster non ho assolutamente idea di cosa voglia dire e find asient astronaut quindi trova l'astronauta antico vi ricordo che se nel replay andate a vedere dentro con il drone la navicella c'è anche un astronauta che ha gli stessi colori della skin siona molto probabilmente non sarà al suo interno ma lo dovremmo andare a cercare in giro e per terminare stop ship launch quindi ferma il processo di partenza della navicella è ancora un po avvolta nel mistero questa serie di sfide ma non vi preoccupate che con il passare dei giorni ne scopriremo sicuramente di più andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi porca miseria eccolo qua dove l'avevo messo questa comunque ragazzi era la foto dedicata all'astronauta ve l'avevo comunque fatta già vedere e andiamo avanti perché con grande stupore da parte della community il 29 il 27 luglio è il mio compleanno il 27 luglio lunedì è il mio compleanno si appassa ragazzi di nuovo il livello dell'acqua arriveremo alla fase numero 7 del water level e questa sarà la minimappa che vedremo ovviamente cliccando il tasto per aprirla ci sono delle novità o meglio ci sono delle terre che sono riemerse alla grande e quale abbiamo elencate partendo dalla prima sabbie sudate riemergerà ma non sarà ancora completamente all'asciutto riemergerà quasi completamente slurpy swamp che era pantano palpitante invece è completamente emerso dirty dogs che sarebbe moli molesti fortilla we slightly move qua traducetevo non non me lo ricordo e camp code is back ragazzi quindi è campo merluzzo come vedete tolgo di nuovo la scritta campo merluzzo in basso a destra tornerà completamente quindi ragazzi mancherà ancora un pochettino di livello dell'acqua che deve scendere per riottenere finalmente tutta la mappa come eravamo abituati a vederla nella stagione 2 di questo capitolo 2 insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali ea me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao